Salve ragazzi, oggi vi manderò, vi farò una piccola lezione, dopodiché su questa piccola lezione faremo un test. Allora, cominciamo ad affrontare un argomento nuovo che ancora non abbiamo affrontato. Per cominciare vi faccio vedere questo piccolo video. L'azienda svolge senza interruzioni in numerosi scambi economici, che giuridicamente hanno la natura di contatti. Il più ricorrente è la compravendita, attraverso cui industriali, artigiani, albergatori, ristoratori, commercianti si procurano sui mercati di acquisizione materie prime, semilavorati, merci, prestazioni diversissime, come trasporti, assicurazioni, pubblicità. Poi, attraverso altri contratti, collocano sui mercati di sbocco i prodotti finiti e ottenuti, le merci acquistate, i loro servizi. Inizialmente le parti interessate allo scambio trattano, con proposte e controproposte, la quantità e la qualità della merce, il prezzo, il luogo della consegna, i modi di imballaggio, trasporto e pagamento. Se viene raggiunto l'accordo si procede alla stipulazione e quindi all'esecuzione del contratto. Durante le fasi della compravendita vengono emessi documenti che hanno la funzione sia giuridica, di prova delle operazioni compiute, sia fiscale, per l'applicazione dell'IVA, un'imposta che grava sulle vendite di beni e sulle prestazioni di servizi. Bene, allora cominciamo a vedere alcune cose. Allora, intanto parliamo di aziende commerciali. Bene, noi diciamo, stiamo parlando del contratto di compravendita, ma cos'è un contratto di compravendita? È un contratto che si fa tra un'azienda che vende delle cose e qualcun altro che queste cose le compra. Allora, intanto di che cosa stiamo parlando? Quali sono le cose, gli oggetti di cui parliamo? Sono le merci. Bene, le merci hanno delle caratteristiche, cioè noi chiamiamo merci gli oggetti che hanno queste caratteristiche, cioè sono beni materiali, trasportabili e destinati allo scambio. Allora, che vuol dire materiali? Materiali vuol dire che si possono toccare, sono solide, hanno una consistenza fisica. Bene, trasportabili vuol dire che queste merci possono essere spostate e trasferite da un posto ad un altro. No? Noi produciamo, che ne so io, il vino a Cassano e poi lo vendiamo a Cosenza. Non possiamo spostare. È una merce. La destinazione dello scambio significa che noi trattiamo le cose, gli oggetti, come merci quando questi sono destinati ad essere venduti. Il piatto di pasta che ci fa la mamma in mezzogiorno non è una merce perché non è destinato ad essere venduto ma ad essere consumato direttamente. Va bene? Allora, queste cose qua, l'insieme delle operazioni che si fanno per fare queste attività, si chiama distribuzione, cioè le aziende commerciali si occupano non soltanto di quella cosa che abbiamo detto prima, ma si occupano della distribuzione che significa che devono trasferire queste merci nello spazio, nel tempo, senza che vengano sottoposte queste merci a dei cambiamenti, a delle trasformazioni fisiche. Restano uguali. Bene? Allora, ovviamente le aziende commerciali, queste aziende commerciali appartengono al settore terziario che noi già conosciamo, cioè un settore di servizi. Va bene? Le aziende commerciali, le funzioni più importanti che svolgono queste aziende commerciali sono la funzione di intermediazione, di adattamento qualitativo e quantitativo e di orientamento alla produzione. Allora, vediamo che cosa vuol dire intermediazione, vuol dire che queste aziende mercantili fanno da intermediari tra chi produce questo bene, un'azienda industriale, un'azienda agricola, e chi poi lo deve consumare, quindi comprare per consumare. Vanno da tramite. L'adattamento qualitativo e quantitativo riguarda il fatto che le aziende mercantili fanno delle operazioni, per esempio, se un'azienda compra una certa quantitativa di mele e poi queste mele come adattamento qualitativo le distribuisce, le divide in base alla dimensione, al grado di maturità, al colore delle mele, nella parte delle mele gialle, nella parte delle mele verdi, nella parte delle mele rosse, e così via. Si chiama adattamento qualitativo. Poi c'è anche un adattamento quantitativo, perché l'adattamento quantitativo riguarda il fatto che i produttori non possono vendere le cose che producono una alla volta, quindi le vendono a queste aziende mercantili che poi le raggruppano in quantitativi più piccoli per essere poi più facilmente distribuiti. L'orientamento della produzione è che ovviamente l'azienda mercantile, attraverso i suoi ordini, gli ordinativi, dirige in qualche modo la produzione, cioè se io sono un commerciante di jeans, i jeans che voglio vendere hanno un certo colore, dico a chi li produce, di produrre questo tipo di jeans. Quindi diciamo che le aziende mercantili hanno anche una funzione di orientamento a chi produce. C'è anche un'altra funzione che è quella di finanziamento. Finanziamento vuol dire che sostanzialmente se chi vende, se il commerciante vende e non si fa pagare subito, è come se stesse finanziando il suo cliente. Va bene? Allora, ci sono delle aziende poi che lavorano per conto proprio e aziende che lavorano per conto di altri. Allora, andando a vedere quelli che lavorano per conto proprio, vuol dire che acquistano e vendono per loro, cioè sono loro i titolari di questa azienda. Le aziende che vendono per conto proprio si dividono in grossisti dettaglianti. Allora, sono dei termini che voi già conoscete e tutti conoscono, ma adesso andiamo ad approfondire, perché i grossisti sono, i commercianti all'ingrosso, sono quei commercianti che acquistano le merci direttamente dai produttori e normalmente le rivendono non al consumatore finale, ma a un'altra azienda. Mentre le aziende al dettaglio e i dettaglianti sono quelli che acquistano normalmente dai grossisti o dai produttori e le rivendono al consumatore finale. Quindi non è una questione di quantità, ma è una questione di chi sono i soggetti che svolgono la compravendita. Per quanto riguarda il dettaglio, cioè le vendite al dettaglio, si parla di piccolo dettaglio e di grande dettaglio. Sostanzialmente il piccolo dettaglio è rappresentato dai piccoli negozi che ci sono nei nostri paesi. Il grande dettaglio invece riguarda la grande distribuzione, i grandi supermercati, gli hard discount, gli ipermercati, oppure quelle aziende che vendono online, come per esempio può essere Amazon, no? Si chiama grande distribuzione. Va bene. Poi andiamo a guardare adesso un altro aspetto che riguarda l'aspetto giuridico di questa compravendita. Quindi il la compravendita è un contratto ovviamente. È un contratto in cui un soggetto che si chiama venditore trasferisce la proprietà di una cosa, di un bene, a un altro soggetto che si chiama compratore. Perché la trasferisce? Perché in cambio di soldi dietro corrispettivo di un prezzo. Bene? Questo contratto di compravendita ha delle caratteristiche, cioè deve essere bilaterale, bilaterale vuol dire che ci devono essere due soggetti, il venditore e il compratore. Il venditore si chiama anche fornitore, il compratore si chiama anche cliente. Bene? Poi deve essere consensuale, che significa consensuale che il contratto è valido dal punto di vista giuridico quando i due si mettono d'accordo sugli elementi di questo contratto. Si mettono d'accordo su come e quando consegnare questa merce sulla quantità, sulla qualità, sul prezzo. A titolo oneroso invece vuol dire che ciascuno dei due, i due contraenti, il compratore e il venditore, devono rinunciare a qualcosa, devono fare un sacrificio. Il venditore rinuncia al bene, il compratore in cambio, gli dà una somma di denaro. Per quanto riguarda gli obblighi del venditore, del compratore, allora vediamo. Il compratore ha sostanzialmente due sole obblighi, che sono quelli di ritirare la merce e di pagare il prezzo che hanno stabilito. Semplice, semplice, tu hai comprato, sei obbligato ovviamente dal contratto, a ritirare la merce dove è stato stabilito e pagare quanto dovuto. Il venditore ha un po' più di obblighi, vediamo. Intanto ha l'obbligo di consegnare il bene venduto, poi ha l'obbligo di garantire il compratore dall'evizione, cioè l'evizione adesso è una parola difficile, sostanzialmente significa che quando il compratore, il venditore vende qualcosa, non può vendere un bene che non sia di sua proprietà. Se lo vende, se succede questo, cioè ha venduto qualcosa di cui non era effettivamente proprietario, deve comunque garantire. Per la legge, se c'è un altro soggetto che è proprietario di quel bene e quindi lo rivuole indietro, il compratore ha l'obbligo di restituire la cifra e di rimborsare il danno al compratore. Il venditore deve anche garantire il compratore da quelli che si chiamano vizi occulti, cioè i vizi occulti sono dei difetti che non si vedono, che sono nascosti, per cui quando tu vai a comprare questo bene non ti accorgi che esiste questo difetto, lo compri lo stesso, però l'obbligo del venditore è di garantire. Quando succede che poi comprate qualcosa, tornate a casa e poi non funziona, potete riportarlo indietro perché il venditore deve garantire da questi vizi occulti. Va bene? Quindi, ricapitolando, gli obblighi del venditore sono consegnare la merce, fornire la garanzia dell'emizione, fornire la garanzia contro vizi occulti, mentre il compratore deve ritirare la merce e pagare il prezzo stabilito. Bene? Possiamo adesso fornire questa prima parte a questo punto qua. Dopodiché, su queste cose che vi ho appena spiegato, vi darò da fare un piccolo test al quale dovrete rispondere sempre tramite Google Drive. Grazie.